Questa spada, risalente ad almeno 800 anni fa, brandita da Robert I Bruce, re di Scozia dal 1306 al 1329, è stata esposta per la prima volta al pubblico dopo molti anni, in occasione del 200esimo anniversario del suo ritrovamento. Il corpo di re Robert, ha spiegato Lord Charles Bruce, discendente del sovrano, fu scoperto nel febbraio del 1818, quindi ci apprestiamo a commemorare quell'evento. Penso che sei calchi del suo cranio siano sopravvissuti, questo qui è sempre stato con la nostra famiglia. Robert I fu uno dei più grandi re di Scozia e anche un valoroso guerriero. Durante le guerre di indipendenza scozzesi condusse il suo paese contro il regno d'Inghilterra. Morì il 7 giugno del 1329, a 54 anni, e il suo corpo fu sepolto nell'abbazia di Dunfermline.